Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video. Ok, lo so, ed è una vita che non pubblico niente. E lo so, c'è qualcosa che non va nel gameplay. E cos'è questa cosa che non va? Sono di nuovo livello 1, mi muovo in modo scattoso, non riesco a capire cosa sta succedendo Dark. Cosa sta succedendo? Non è più su Play 4. Ho deciso di fare l'upgrade a PC e quindi d'ora in poi, se vedrete del gameplay da parte mia, e beh, sarà su PC. In ogni caso questo video non vuole essere un video introduttivo al fatto che io abbia preso un PC. Infatti il gameplay non è poi di alta qualità, mi vedete che ogni volta che devo fare una kill deve essere bene allineata, devo essere sicuro di quello che sto facendo. Non è che sono un pro adesso sul PC, no? Infatti questa qui sarà stata la quarta partita magari che ho fatto da quando ho finalmente scaricato Butterfield su PC. Il discorso è un altro. Il discorso è che questo video vuole essere una piccola introduzione, un annuncio al fatto che molto presto, ecco, molto presto non intendo domani, dopo domani, perché adesso sto preparando i miei esami di università, però decisamente presto, quindi magari fra un mese o magari verso aprile, dovrei tornare attivo, dovrei tornare attivo, dovrei ricominciare a fare video e non li farò più solo su Battlefield 4, ma li farò un po' su tutti i giochi che mi capitano, diciamo, sottomano, dato che adesso ho un PC col quale riesco a registrare bene in HD, 60 frame al secondo, 1080p, cioè mi sono fatto un bel PC da gaming, quindi adesso con questo PC riesco anche a registrare, fare tutto, editare più velocemente, questo mi semplifica moltissimo il lavoro e quindi ho più tempo per fare video, dato che ci metto di meno a farli. In ogni caso, questo vuole essere soltanto un saluto a voi che siete i miei spettatori, a voi che siete rimasti se state vedendo questo video o che mi avete trovato da poco e avete trovato sfortunatamente un canale inattivo. Vorrei soltanto aggiungere che ovviamente il fatto che io non faccio più video dipende principalmente da un paio di fattori. Innanzitutto il fatto che, vabbè, università, non ho tempo, non ho più così tanto tempo e bla bla bla. Poi il fatto che ho smesso di giocare a Battlefield su console e quindi mi ritrovo in questa situazione un po' precaria di dire, vabbè, che video faccio? In una mia audience è soltanto di Battlefield, ora cosa faccio? Però mi dispiace davvero tantissimo non fare video per voi perché, come i miei seguaci più accaniti sanno, per me Battlefield è stata una grandissima passione, è stato un gioco molto importante per me come persona e per me come videogiocatore. e quindi vorrei soltanto passarvi questo messaggio perché YouTube è stata parte integrante della mia esperienza su Battlefield. Quindi, in ogni caso, qualsiasi cosa accada che io pubblichi video o no, ragazzi, vi voglio bene se siete ancora qui a guardare i miei video. E scusatemi per la voce un po' triste per questa atmosfera un po' cupa che c'è in questo video, ma spero, sinceramente, di sentirvi il prima possibile. Se volete che torno, lasciate un commento qua sotto e bombardate il video di mi piace. Più mi piace vedrò e più avrò voglia di venire tutti i giorni a accendere il mio computer per registrare gameplay per voi e farvi un commentario veloce. In ogni caso, questo è tutto. Noi ci vediamo, speriamo, presto. Bella ragazzi, ciao.